Zaia, iniziamo da Zaia. Qualche mese fa alle elezioni, insomma, come dire, c'è chi ha usato termini forti, di fatto lei ha ampiamente superato sia le previsioni sia il risultato di Flavio Tosi. Adesso sta governando la regione, ma si dice che ci sono dei problemi di bilancio nelle regioni e c'è anche in Veneto un problema di bilancio, dovete restituire i soldi? Beh sì, innanzitutto grazie per l'opportunità e vi chiedo un grande applauso per i militanti che lavorano per le nostre feste e debbo dire che un pizzico, lasciatemelo dire, di invidia ce l'ho da Veneto, no? Perché noi di feste ne avevamo tante, giusto Veneti, e ci hanno detto che il futuro non era più quello di fare feste, di fare militanti, di fare gazebo, ma era quello di pensare al paese. Appunto. Penso che il merito di questa grande avventura del Veneto vada a Matteo Salvini, non glielo dico per piageria, non l'ho mai ringraziato prima d'ora, ma un capo si vede che è capo nel momento del bisogno, facile fare i capi quando non c'è nulla da decidere, non ci sono difficoltà. Lui nella difficoltà ha saputo ascoltare la base, ha saputo ascoltare noi Veneti e noi l'abbiamo ripagato perché il 31 maggio abbiamo dato dimostrazione. Rispetto al debito, al di là dei titoli, la regione del Veneto non ha nessun debito, deve essere chiaro questo. Chiaro? È semplicemente accaduto che nel 2012 noi avevamo 7.000 fornitori da pagare, povera gente, artigiani, lavoratori che avevano lavorato per i nostri 68 ospedali, avanzavano i soldi, noi avevamo i soldi per pagarli, ma quei soldi erano bloccati e sono bloccati a Roma presso la tesoreria unica, in virtù del patto di stabilità, sono 1 miliardo e 300 milioni, allora l'allora governo, sempre di centro-sinistra, si è inventato una grande soluzione. Prestiamo i soldi alle regioni per pagare i debiti, a noi hanno prestato 1 miliardo e 4, ci hanno prestato i nostri soldi. Il problema è che i nostri soldi lì non rendono un centesimo di interesse, quelli che loro ci hanno prestato ci costano 20 milioni di euro all'anno di interessi. Quindi questo è quello che è accaduto, noi non abbiamo nessun debito, non siamo tra quelle regioni che hanno approfittato del prestito per fare altri debiti, noi abbiamo pagato i nostri fornitori. Vi ricordo che nel 2012, io non avrei mai sottoscritto questa cosa, ma nel 2012 io avevo una contabilità di 120 imprenditori che si erano già suicidati. E quindi per me prima vengono i Veneti e dopo vengono le battaglie. Salvini, il tema di più stretta attualità, è inutile girarci intorno, tanto si parla prevalentemente di questo. Un episodio di cronaca drammatico ha dato in là a polemiche, oltre che a ulteriori informazioni rispetto all'immigrazione e mi riferisco ovviamente a quanto è successo in Sicilia, a quanto ha detto la figlia di questi coniugi che sono stati uccisi. Ma oggi la Merkel ha detto, e poi vorrei sapere se è vero e fino a che punto secondo lei è vero, l'Italia non va lasciata sola sull'immigrazione. È possibile che l'Europa faccia davvero qualcosa perché l'Italia non sia lasciata da sola ad affrontare questo problema? Innanzitutto una riflessione, non so che reazione abbiate avuto voi guardando al telegiornale l'intervista dignitosissima e compostissima di questa figlia che ha perso in maniera così pazzesca due genitori che sono stati una vita a lavorare in Germania ed erano tornati al loro paese per finire uno con la gola tagliata e l'altro buttata giù dalle scale. Non ci sarebbe altro da aggiungere se non ascoltare le parole di questa figlia che non mi interessa per chi, perché, perché cosa ha votato, però ha detto oltre a fare il fenomeno all'Expo, Renzi vieni a spiegarmi perché non ho più la mamma e il papà. E soprattutto chi sono i colpevoli? Non facciamo nomi e cognomi, non mi interessa. Per qualcuno i colpevoli siamo noi, siete voi, perché qualunque cosa accada sulla faccia della terra è colpa della Lega, che siamo sciacalli, siamo razzisti, siamo brutti, siamo cattivi, siamo violenti, siamo ignoranti. E a me piacerebbe che tutti quelli che si fingono buoni un giorno venissero giudicati da un tribunale superiore per quello che sono degli ipocriti, falsi, pericolosi, affaristi con il sangue sulle camicie. Io non voglio più, perché poi qualche fenomeno non gaia ovviamente, dice ah però in fondo in fondo dai, che alla Lega vanno bene queste robe qua, come se noi aspettassimo di prendere un voto in più, in base alla rapina, alla violenza sessuale, al furto, all'omicidio. Io penso che la Lega stia crescendo perché si occupa di legge fornero, di studi di settore, di agricoltura, di pesca, di lavoro, di tasse. Gli avete sentiti prima i cinque lavoratori, non so se c'eri Luca. Un giornalista salendo mi ha chiesto un commento sul fatto che il Vescovo di Bergamo ha attaccato la Lega, perché tanto ormai è di moda, con chi me la prendo oggi, ma con la Lega, perché siamo cattivi con i profughi. Poi vai a scoprire che una fabbrica qua vicino a Grassobio ha lasciato a casa 50 dipendenti, la FAAC, quella che fa cancelli automatici, e chi è il proprietario esclusivo di questa fabbrica che ha chiuso a Bergamo per aprire uno stabilimento in Bulgaria, perché là gli operai costano di meno alla faccia di 50 famiglie bergamasche. La proprietà di questa fabbrica è della Curia di Bologna, è dell'Arcivescovo di Bologna, quindi se gli avanzano cinque minuti suggerirei al Vescovo di Bergamo, oltre che prendersela con la Lega, di dare un colpo di telefono al suo collega Vescovo di Bologna, perché ero rimasto al fatto che la Chiesa si occupasse di anime e non di business e di speculazione internazionale. Quindi state tranquilli che io sono, come ho detto in intervista quest'estate, un peccatore, anzi un peccatorissimo, commetto più peccati io della metà di voi che siete qua sotto, però con tutti i miei limiti difendo quelli che sono i nostri valori, i nostri principi, la nostra cultura, e sono sicuro che il buon Dio che esiste, e che quando parla qualche Vescovo si incazza come una bestia sicuramente, ritiene che i veri buoni siano qua. E quindi state tranquilli che se c'è qualcuno che passerà un po' di tempo in purgatorio non è qua stasera dal sano Lombardo. Salvini, ma questa situazione dell'immigrazione si risolverà? È risolvibile o Zaia dovrà continuare ad ospitare in Veneto, così come in Lombardia e in altre regioni d'Italia, i profughi che arrivano a centinaia? Tutto è risolvibile, tranne i fenomeni naturali, i terremoti, le valanghe, il resto è prevedibile. Nella storia dell'uomo le popolazioni si spostano, vanno governate, indirizzate e orientate. Io aggiungo un ragionamento in più, al di là di quello che ci diciamo ormai da tempo, questa settimana l'hanno detto il professor Sartori, il professor Ludwak, sembrava Zaia, bisogna affondare i barconi prima che partano, bisogna allestire dei campi in Nord Africa, bisogna intervenire militarmente con l'ONU, quindi hanno detto quello che direbbe uno qualunque di noi, a questo si arriverà. Però io aggiungo un ragionamento in più, io mi sono andato a cercare su internet, e lo potete fare tutti voi, il tasso di natalità di tutti i paesi del mondo, perché alla fine la storia dell'uomo insegna che vincono i numeri, le guerre o le vinci con i cannoni o le vinci con le pance, non ci sono terze vie. E il Niger, ad esempio, ha un tasso di natalità che è di sei volte superiore a quello dell'Italia. E quindi, oltre a difendere i confini, respingere, quanto ci metteranno gli uomini che governano il mondo a dare una mano a uno sviluppo sostenibile di cui la sinistra si riempie la bocca ogni quarto d'ora, non sta in piedi il mondo se c'è un continente che produce sei volte il numero di bambini e di bambine senza poterli crescere e mantenere che producono gli altri paesi del mondo. Quindi a me piacerebbe che i vari monsignori ogni tanto, magari ricordandosi che questa terra il buon Dio ce l'ha data e va mantenuta, dovrebbero anche andare a insegnare il fatto che un figlio si mette al mondo se si è in grado di mantenerlo e di dargli un futuro, altrimenti non ne veniamo più fuori. Zia, nel Bresciano alcuni sindaci sono stati denunciati dalla prefettura perché si sono rifiutati o almeno hanno invitato la popolazione a non ospitare i migrati sul territorio. Più volte, dalla Lega, alcuni esponenti hanno detto che i sindaci hanno il potere di dire no almeno per quanto riguarda le zone di ospitalità che non sono private. Il Veneto come si sta comportando? Tanti luoghi turistici quest'anno hanno avuto delle difficoltà perché appunto c'erano alberghi già occupati, ci sono state anche delle lamentele di chi voleva andare in villeggiatura e non aveva il posto perché fisicamente gli alberghi erano già pieni. Il Veneto come si sta comportando? Se ci fosse quella misura che è stata adottata dalla prefettura della Lombardia in Veneto saremmo tutti denunciati. perché noi in Veneto su 579 comuni abbiamo solo 5 comuni che hanno dato una timida disponibilità ad accettare qualcuno. Il che crea non pochi imbarazzi è anche una forza di governo che si vanta di avere il 30% dei comuni in Veneto che rispediscono al mittente tutta questa operazione. è altrettanto vero che il substrato che si è creato è un substrato di civiltà, non di razzismo, è un substrato nel quale i Veneti si vantano assieme a Lombardia ed Emilia Romagna ad essere le prime tre regioni in Italia per numero di immigrati, noi abbiamo l'11% della popolazione, è un substrato che oggi permette di dire ai Veneti che hanno il miglior modello di integrazione a livello nazionale. Però siccome noi siamo persone per bene con 42.000 immigrati disoccupati diciamo che l'umanità e la solidarietà non passa attraverso il messaggio che si sta mandando a mezzo miliardo di cittadini africani facendo credere a loro che è sufficiente varcare il Mediterraneo per risolvere i problemi. Perché questi cittadini poi vengono abbandonati come è accaduto in Veneto di fronte alle stazioni dei treni, lungo le autostrade, nessuno si occupa di loro e questa non è la civiltà. E a me fa piacere, e chiudo, fa piacere scoprire che il Presidente del Consiglio ieri in un'intervista data al Corriere della Sera annuncia che le soluzioni ci sono che sono quelle dei campi profughi in Africa che sono quelle dei corridoi umanitari che sono quelle di fare un summit urgente. Allora io vi lascio solo alcuni dati. Quando eravamo il Governo noi, io ero Ministro, anzi ero già in Regione e già mi opponevo all'invio dei profughi, il Governo Berlusconi nel 2011 fa 63.000 immigrati, Maroni attiva tutte le misure di contenimento dei flussi migratori, il Governo Monti l'anno successivo ne fa 13.000, il Governo Letta l'anno successivo ne fa 43.000, il Governo Renzi l'anno successivo cioè 2014 ne fa 170.000 e quest'anno 200.000. Voi capite che questa maggioranza di Governo sta governando il Paese dal novembre 2011 e dal novembre 2011 non si sta preoccupando di questo problema. Questo è quello che sta accadendo. c'è una notizia ed ho chiuso che è di ieri il famoso summit del 14 settembre ma perché non ci chiediamo come mai Germania e Gran Bretagna chiedono al Premier danese che è Presidente di turno dell'Europa di convocare urgentemente un summit e noi fino al 13 gennaio 2015 avevamo la presidenza del semestre europeo e questo è andato a cerimoniali tartine incontri parti e non si è preoccupato di portare l'unico dossier che era quello degli immigrati questo è scandaloso sei mesi di presidenza europea senza parlare del problema dell'esodo biblico che stiamo ovviamente a subire Salvini ma è vero che occuperete le prefetture di Brescia e Bergamo? No dobbiamo scegliere o Brescia o Bergamo così sfateremo il mito e metteremo insieme Bresciani e Bergamaschi nel nome del scherzi a parte io sono molto umilmente un sostenitore della tesi di Luigi Inaudi che nel 1943 scrisse un bellissimo pamflet via i prefetti e 70 anni fa scriveva che dove c'è il prefetto non c'è democrazia quindi già il prefetto mi sta qua se fa il suo lavoro pensa un po' te se non fa il suo lavoro cioè già mi sta sulle balle però va bene se si occupa di ordine pubblico e rappresenta lo Stato a Bergamo a Brescia a Treviso a Belluno o a Imperia se invece invece di fare lo Stato fa venere.com o booking.com a nome per conto dei clandestini ormai è un'agenzia turistica per trovare ostelli palestre o alberghi per immigrati non ci siamo l'Europa io non penso che abbia nessuna intenzione di aiutarci infatti se andate a leggere le dichiarazioni parla di profughi di quelli riconosciuti come profughi alla fine dell'iter che è un'estrema minoranza cioè il massimo che quel genio di Renzi però gli do spezzo una lancia a favore di Renzi ha un attenuante perché a nome di Renzi va a trattare gli affari dell'immigrazione a Bruxelles al Fano quindi voi capite che che non è il massimo però la Merkel dice quello che dice perché è costretta a dirlo ma loro parlano di quelli che vengono riconosciuti come profughi che sono meno del 30% di quelli che sbarcano il problema è che noi ci stiamo riempiendo di clandestini non di profughi perché a Mineo giusto per avere un numero il dato di 15 giorni fa su 3200 ospiti del più grande centro immigrati d'Europa che è Mineo noi ci siamo fatti dare tutte le nazionalità e voi sapete quanti sono gli Eritrei e i Siriani che sono i due paesi che l'Europa teoricamente ha riconosciuto gli Eritrei e i Siriani su 3200 ospiti all'11 di agosto erano tre tre per la precisione tre Eritrei e neanche un Siriano il resto è tutto il resto del mondo anche paesi palesemente evidentemente non in guerra quindi è per questo che io dico questa è l'ennesima dimostrazione del fatto che l'Europa è un centro commerciale basato sul profitto sul denaro sulle banche sulle multinazionali e se questa è l'Europa prima la molliamo meglio è per noi e per tutti mi hanno detto che non abbiamo molto tempo per cui dobbiamo andare un po' veloci sugli argomenti allora Salvini parliamo di di quello che potrebbe succedere qualche giornale diceva che questa sera non ci sarebbe stato qui ad Alzano perché avrebbe dovuto incontrare Berlusconi e invece è qua quindi Berlusconi non l'ha ancora incontrato ma è vero che vi vedrete nei prossimi giorni perché insomma dalle pagine di un giornale lei stesso ha detto ci sposiamo va bene che ho problemi con le donne però insomma c'è un limite a tutto no ma io quest'estate ero ero al ero al mare con la bimba a Pietrasanta e hanno iniziato a chiamarmi i giornalisti alle 10 della mattina perché due giornali avevano scritto che stavo incontrando Berlusconi e io ero con la paletta e il secchiello a fare a fare il castello e le formine questo per dire che ne ho lette di tutti i colori sicuramente incontrerò Berlusconi non ho voluto farlo prima di stasera perché stasera alle 23 che ore sono quasi si chiude il calcio a mercato e quindi voglio vedere se ha trovato un altro centrocampista per il Milan altrimenti non andiamo troppo lontano e quindi gli ho chiesto di cedere all'Atalanta titolo gratuito Balotelli fino vabbè oh dai ha fatto una domanda seria da 20 secondi di risposta seria io ho fatto un'intervista a Panorama in cui ho detto che se Forza Italia condivide le nostre battaglie perché no però però imparando dal passato dove abbiamo fatto quello che dovevamo fare e rifarei tutto quello che abbiamo fatto perché a differenza di Renzi non amo sputare nel piatto non solo dove ho mangiato ma che mi ha portato fino a qua e io non finirò mai di ringraziare Umberto Bossi che ci ha portato fino a qua dal nulla dal nulla e quindi rifarei tutto quello che abbiamo fatto con Umberto però adesso ringraziando la fortuna la sorte gli errori degli altri tendenzialmente siamo noi ad avere il coltello e i numeri dalla parte del manico quindi quello che posso assicurarvi è che sicuramente perché fa parte del mio mestiere andrò ad Arcore o meglio magari inviterò Berlusconi in una sede della Lega così come così come se volesse parlare di legge Fornero io andrei domani mattina a Roma a piedi da Renzi perché mi interessa risolvere i problemi e non mettermi delle bandierine addosso però un eventuale accordo chiunque sia quello con cui faremo l'accordo si fa partendo dal nostro programma quindi è qualcun altro che deve arrivare a firmare le nostre proposte a sostenere le nostre battaglie e poi vedremo io l'ho visto abbiamo fatto Luca a Ferragosto a Ponte di Legno quest'anno è stato emozionante non so se qualcuno di voi c'era perché c'era Gaia un palazzetto dello sport pieno dove i carabinieri hanno dovuto bloccare gli ingressi perché più di 4.000 persone non ci stavano e io ho chiesto per alzata di mano se si votasse domani mattina facciamo finta che stanotte Renzi viene folgorato da una visione dice mi dimetto e si vota no 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 non si scherza decide che la sua professione è altro rispetto al presidente del consiglio quindi sarà bravo a fare altri mestieri se si votasse domani mattina alzino la mano fra i qua presenti coloro che preferirebbero un accordo con Forza Italia chi vorrebbe andare da solo 51 a 49 questo fa parte del mestiere del segretario vi posso dire che non sono disposto a fare accordi con tutti pur di vincere tradotto se qualcuno al tavolo mi dirà però per vincere devi tirar dentro Alfano questo non si prende neanche lontanamente in considerazione per quanto riguarda Forza Italia dovrò capire dovremo capire qual è Forza Italia nel senso che se devo giudicarla da come si lavora in Veneto o da come si lavora in Lombardia per carità di Dio si rispettano i programmi si lavora di comune accordo e si governa bene se devo giudicarla da come si comporta ad esempio nel mio posto di lavoro a Bruxelles non ci siamo e io l'ho detto a Berlusconi perché io l'80% delle leggi che approva il Parlamento italiano arrivano dall'Europa quindi è chiaro che se io voglio andare al governo per cambiare l'Italia non posso andare al governo con qualcuno che in Europa vota l'esatto contrario di quello che serve a me quindi su questo non ci sono io ho visto che Brunetta ha fatto il decalo di quello che bisogna fare in Europa mi appello all'amico Veneto Luca digli che è l'esatto contrario di quello che vuole fare la Lega perché se per Forza Italia ci vuole più Europa ci vuole una banca comune un fisco comune non ci siamo capiti l'Europa dal mio punto di vista deve occuparsi seriamente di poche cose e quelle poche cose farle bene sicurezza politica estera difesa sul resto l'agricoltura la pesca il commercio l'industria l'Europa non deve rompere i coglioni su questo non si transige Salvini Salvini come come la vedrebbe Salvini presidente del consiglio Berlusconi ministro degli esteri è improbabile Salvini presidente del consiglio ma te lo vedi uno in Bermuda fare il presidente del consiglio io sono l'unica cosa che mi rincuora è che la sera quando vado a letto ponendo questa domanda che per me è al di là di ogni mia possibilità però mi dico se l'ha fatto Renzi lo posso fare anch'io cioè se l'ha fatto Renzi lo può fare se l'ha fatto Renzi anche la metà di voi può farlo quello che voglio fare come segretario della Lega nei prossimi mesi però al di là di chi farà il presidente del consiglio oggi un giornalista mi ha chiamato pensando di farmi incazzare e invece mi ha fatto un favore mi ha detto però da alcuni ambienti trapela il fatto che Berlusconi preferirebbe Zaia o Maroni ditemi dove posso firmare perché pur di avere un leghista presidente del consiglio firmo adesso per Luca Zaia presidente del consiglio domani mattina ditemi dove posso firmare e firmo perché il mio obiettivo da segretario della Lega è fare in modo che le idee nostre i valori nostri arrivino a contaminare tutto il paese e la mia piccola scommessa che non so se vincerò se perderò spero di vincere è di provare a farlo da nord a sud io giovedì sono a Viterbo e venerdì sono in Sicilia non perché non ci sono feste o comizi o sindaci della Lega da incontrare ma perché dal mio punto di vista a differenza di quello che stavamo vivendo 15 anni fa nel 96 quando andamo sul Po nel 96 non avevamo un mostro di antidemocrazia di dittatura e di sovietismo applicato come l'Unione Europea quindi dal mio punto di vista in questo momento l'Italia o meglio le Italie vincono se si mettono insieme da nord a sud per riprendere il controllo del loro futuro della loro moneta della loro economia della loro agricoltura poi io continuo a rimanere un sostenitore di miglio del fatto che l'autonomia l'autogoverno il federalismo l'autodeterminazione dei popoli siano sacri e inviolabili però mi piacerebbe riuscire a mobilitare anche tanta gente di buona volontà che c'è da Roma in giù e ce n'è tanta io quest'estate forse ho avuto più modo di parlare di fare più foto con cittadini disperati di Roma di Napoli di Bari di Catania o di Palermo che non con miei concittadini milanesi quindi chi farà il presidente il consiglio non lo so mi auguro che si voti in fretta perché questo è un governo non eletto incapace e pericoloso e mi auguro che ci sia un presidente il consiglio leghista cosa farà Berlusconi non mi permetto di dare giudizi su un uomo che comunque che che ne possa pensare io e che che ne possiate pensare voi ha fatto grandi cose nella vita nella professione nella politica col senno del poi avremmo potuto fare meglio avremmo dovuto far di più abbiamo fatto degli errori però non è il piccolo Salvini a dover dire cosa fa domani Berlusconi che è stato il numero uno non penso che Berlusconi sarà mai il numero due di nessuno l'unica cosa che so perfettamente come leghista e penso che lo sappiate anche voi è che quasi anzi tutte le persone che sto incontrando e che mi dicono credo in voi però ci danno l'ultima possibilità è l'ultimo giro è l'ultima munizione non ci sarà una seconda chance un secondo giro o ce la giochiamo bene stavolta o ci dedichiamo a qualcos'altro io sono convinto che ce la giocheremo bene stavolta grazie a voi grazie a voi beh Zaya è qui Zaya è qui possiamo chiederglielo direttamente dopo fra cinque anni che cosa ha intenzione di fare il baby pensionato cambio il cavallo no mi piace l'idea del presidente del consiglio con i pantaloncini corti voi cosa dite come siete diplomatici no non è guarda io penso 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 una cosa e l'ho già detto in altre occasioni che oggi chiedere se che chiedere oggi se la politica del futuro è di destra o di sinistra è una domanda sbagliata la politica è quella delle leadership e penso che Matteo abbia dimostrato fino in fondo Matteo Salvini di aver messo insieme un bel po' di gente il popolo attorno a una leadership e questo è quello che conta questo questo è quello che conta del resto te lo porti dappertutto del resto vorrei ricordare vorrei ricordare che Matteo ha preso in mano un partito che era 3% e io ho apprezzato quando per gli europei di quell'anno si è giocato la faccia e anche tutto il resto del corpo dicendo se non prendo quella percentuale mi dimetto e vado a fare altro nella vita e ha raddoppiato quindi penso che non ci siano molte decisioni da prendere che lui voglia o non voglia per il resto penso anche che la nostra collaborazione con Forza Italia in Veneto è stata proficua è stata leale ovvio che oggi come si dice il mazzo delle carte le ha servite bene a noi noi abbiamo 24 consiglieri loro ne hanno 3 non era mai accaduto nella storia non era mai accaduto nella storia del Veneto però è altrettanto vero che nella vita bisogna crederci e io penso che la Lega sia giunto a un momento nel quale cominciare a carezzare seriamente l'idea di correre da soli sia la vera soluzione ma insomma Salvini non mi sembra che ci sia molto diciamo che per scaramanzia non non vuole ammettere che il leader del centro-destra insomma toccherà avere i Bermuda lo dovrete decidere un leader del centro-destra ci dovrà essere con o senza primaria adesso poi vedrete ma insomma ci dovrà essere no a parte che mi perdoni in una recente intervista Renzi ha detto l'alternativa a me è Salvini di fatto dicendo oltre a me c'è il centro-destra ossia c'è Salvini ma probabilmente lui non lo dice per farmi un favore lui lui lo dice perché nella sua logica probabilmente noi io e voi dovremmo spaventare gli italiani quindi è come il babau è come dire dopo di me il diluvio e se non ci sono io c'è Salvini c'è la sciagura c'è la valanga c'è la nebbia perenne c'è la sfiga però questo in politica è un errore è un errore che avevo fatto anch'io che avevamo fatto anche noi a Milano quando il centro-sinistra contro la Moratti alle primarie scelse Pisapia e io e io scioccamente sottovalutando qua ci sono dei miei concittadini poveretti hanno tutta la mia solidarietà però io pensai ai tempi e noi impostammo la campagna elettorale come Renzi fa con noi no ragazzi non votate noi perché questi sono i nostri progetti questi sono i nostri programmi abbiamo questa idea sulla città sulle scuole sulle piscine sulle palestre sulle case popolari impostammo la campagna elettorale dicendo non votate quelli là perché sono brutti sbagliato sbagliato la gente secondo me ne ha le scatole piene di sentirsi dire quello no perché la gente ha bisogno di sentirsi dire io sì perché voglio fare uno due tre quattro cinque e quindi lascio che sia Renzi a dire ah dopo di me arriva la Lega noi facciamo la nostra storia poi io sarei la persona più felice del mondo se la vita è strana se qualcuno avesse detto a me o a Luca o a Gaio o a ciascuno di voi un anno fa ci troviamo l'anno prossimo ad Alzano Lombardo con la Lega secondo i sondaggi al 15% chi di voi ci avrebbe creduto? Sì bravi eh tutti eh sì tutti fenomeni adesso eh come no non ci credo non ci credo quindi questo per dirci non dobbiamo porci i limiti chi sarà il leader non lo dico per scaramanzia o per falsa moda è l'ultimo dei problemi mettiamo insieme in programma soprattutto facciamo la cosa più difficile mandiamo a casa questi qua non è facile mandare a casa questi qua questi qua sono incollati alla poltrona hanno fatto delle cose che se le avessimo fatte noi al governo con Berlusconi ci sarebbero state le piazze piene di milioni di persone e i girotondi e le femministe se non ora quando e il popolo viola e il popolo lilla e il popolo fucsia e questi fanno di tutto e niente niente vi vi chiedo di segnarvi poi avremo tempo per decidere per spiegare cosa fare tre giorni non prendete impegni o meglio la vita sarà quella di sempre ma dovremo fare qualcosa di più e di diverso 6 7 e 8 novembre 6 7 e 8 novembre tenete a memoria queste date poi ne parliamo ma intanto vediamo cosa succede fra poco dal punto di vista elettorale e mi riferisco alla prossima primavera a Palazzo Marino ci arriva qualcuno con i Bermuda ce l'ha in mente un nome ha detto del debbio no del debbio ormai ha rifiutato quindi chi fa il sindaco di Milano io ho in mente una o due persone che conoscono e amano la loro città e che penso riporteranno Milano a essere una capitale europea come si merita e non una città grigia sporca triste insicura incerta ci sono i nomi ho le idee non li dico qua se no vengono impallinati dall'arcivescovo di turno domani mattina e quindi li devo tutelare io a me piacerebbe e mi piacerebbe farlo prima di lasciare la politica e fare altro perché fare il sindaco della propria città penso sia la cosa più bella e più difficile del mondo e quindi il mio pezzo di vita a Milano lo darò sicuramente difficilmente lo potrò fare nella prossima primavera perché fare il segretario della Lega è una cosa così bella così entusiasmante e così incredibile che è difficilmente compatibile con lavorare per la propria città però però ci dia questa informazione che è una notizia con Berlusconi troverà l'accordo ma il sindaco dovrà essere un leghista il sindaco di Milano o potrebbe anche essere di Forza Italia potrebbe anche essere né della Lega né di Forza Italia potrebbe essere una persona che si è distinta nella sua professione nel suo mondo nel suo ambiente senza avere una tessera di partito in tasca e non voglio non sono egoista non voglio mettere paletti non li prendo neanche da altri non penso che possa essere qualcuno di riciclato ma a Milano abitano un milione e trecentomila persone penso che su un milione e trecentomila persone ce ne sia uno che possa fare meglio di Pisapia che metta d'accordo noi con Berlusconi penso che lo troveremo non ci rimane moltissimo tempo per cui la domanda che poi si svilupperà a Salvini la voglio fare prima a Zaia il 6, il 7 e l'8 di novembre che cosa succede che cosa chiederà ai Veneti di non comprare più le sigarette di non far benzina di non comprare il grattevinci ma potremmo chiedere di non pagare più le tasse ad esempio tre giorni sono pochi ma tre giorni tre giorni di tasse dei Veneti vengono come un anno di qualcun altro ma no io penso al di là delle battute penso che i Veneti si siano sempre dimostrati molto reattivi rispetto a tutto quello che è protesta civile democratica e rispettosa della libertà altrui e abbiamo dimostrato di aver sostenuto il referendum per l'autonomia per l'indipendenza abbiamo dimostrato di aver avuto il coraggio di fare molte scelte controcorrente penso immagino che i miei Veneti dove in Veneto voglio ricordarvi uno su due ci ha scelto uno uno su due ci ha scelto immagino che ai miei Veneti basterà dare indicazione perché dall'esporre una fascia lutto piuttosto che non pagare le tasse o decidere qualche altra iniziativa il Veneto risponderà positivamente all'appello Salvini invece cosa si aspetta da questi tre giorni dall'area dove lei arriva cioè dal nord ma anche dal sud dove no no saranno rivolti a tutta Italia ecco preciso non saranno non mi interessa fare uno sciopero alla modi CGL alla modi Camusso ecco è l'esatto contrario mi interessa parlare con quelli che producono coi produttori far tirar fuori l'orgoglio come accadde qualche anno fa a chi lavora veramente agli artigiani ai commercianti agli imprenditori agli agricoltori ai liberi professionisti non a qualche dipendente pubblico scioperato rintanato in un ufficio che va a fare uno sciopero ogni tanto per prendersi la mezza giornata di permesso anche di quei dipendenti pubblici che invece lavorano anche per lo scioperato che hanno di fianco noi stiamo organizzando stiamo lavorando su tre giorni di orgoglio di riscatto di liberazione identificando anche un colore comune in quei tre giorni anche chi lavorerà a chi lavorerà chiederemo di indossare una spilla un braccialetto di quel colore per dire vogliamo tornare padroni a casa nostra tre giorni non di blocco di liberazione di respiro di ossigeno certo mettere a dieta lo Stato quanti di voi fumano sulla mano quanti sono i fumatori siete in grado di smettere di fumare per tre giorni sì o no? su cosa ingrassa lo Stato sul lotto sui gracia e vinci sulle sigarette avremo come obiettivo le banche che stanno massacrando l'economia invece di aiutarla le prefetture l'agenzia delle entrate l'Inps quelli che massacrano i nostri agricoltori perché in questi giorni sono a rischio chiusura in 3.000 aziende agricole e quando chiude un'azienda agricola si perde un patrimonio e penso a tre giorni di orgoglio mi hanno scritto degli avvocati che mi hanno detto io in quei giorni chiudo lo studio mi hanno scritto dei medici e dei taxisti che mi hanno detto io in quei giorni lavoro gratis per un italiano che avrà bisogno del mio lavoro gratis mi piacebbe che in quei tre giorni si consumassero solo prodotti italiani perché anche andare a fare la spesa è un atto politico consumare mangiare bere comprare cose di casa nostra tre giorni di orgoglio dei territori in cui ciascuno indosserà un braccialetto una spilletta e chiunque può essere un poliziotto può essere un insegnante può essere un giornalista che va in onda su Sky perché no applauso a Gaia che parteciperà ai tre giorni non è questa la notizia ma penso anche a mestieri difficili penso ai poliziotti e penso ai carabinieri che non possono evidentemente scioperare ma vi posso assicurare che io sto parlando in questi mesi Luca con migliaia di uomini delle forze dell'ordine con migliaia di poliziotti e carabinieri che non vedono l'ora che cambi la musica io posso assicurare a voi e a loro che quando andiamo al governo polizia e carabinieri saranno liberi di fare il lavoro di polizia e carabinieri senza il timore di essere denunciati dal primo spacciatore o dal primo rapinatore di turno che si è sentito maltrattato quindi stiamo pensando a tre giorni di riscossa di risveglio di orgoglio hanno già iniziato ad attaccarci perché hanno una paura della madonna e più paura hanno più contento sono grazie a tutti